Ci siamo, è partito, con il numero 52, Giovanni Adamo, Bibi Fisco, Snapper, ricordo il tempo la battaglia di Chiedi, tra il cesto, 21, mentre i giovani mi ricorreggia la trenta, prima della pistata perché qualche cosina si va in risalita con il Giovanni Adamo, Bibi Fisco, Snapper, che esce la loro parola, con il numero 6, il tempo che ha, in quanto si fa, a formare, FUS, 277, 227, 7, spezza tutto, Giovanni Adamo, Bibi Fisco, Snapper, e noi chiediamo a Giovanni di restare in arena perché a questo punto non ci resta che chiedere a Giovanni. Tutti i piedi, tutti i piedi, Giovanni fa qualcosa di strepidoso, davvero periodosa, perché con il tempo di 22, va a distruggere ogni record in questa arena e in maniera da galantuomo, da galantuomo quale si rivela ogni volta Giovanni Adamo, noi lo ringraziamo, il sciopo, siamo noi attoriati, il campello per Giovanni Adamo, che porta con sé il piccolo, promessa quasi a dire da ora in poi, tocca a te caro Alex, tocca a te tenere la mia evitata, ma io la terrò ancora per un po' perché finché posso il titolo di campione italiano me lo vado a giocare di anno in anno, Ciro riesce nuovamente.